Si sblocca anche l'affare Segre. Giornate cruciali per il Palermo dal punto di vista del calciomercato. Per il centrocampista del Torino, che è stato inserito già da settimane nella lista dei dirigenti rosanero, sembra che la strada sia in discesa. Secondo le ultime informazioni, dopo gli intoppi si è raggiunta una intesa che porterebbe il centrocampista in Sicilia già dalla prossima settimana. Il mercato decolla dunque con il duo Rinaudo-Zavagno, che ha portato in società nei giorni scorsi Di Mariano e Bettella, oltre al centrocampista Stulaz, che è stato ufficializzato nella giornata di ieri. E oggi, intanto, si ritorna in campo. Dopo il brillante successo ottenuto nell'esordio del Barbera contro il Perugia, la squadra di Corini andrà a far visita all'altra neopromossa, Bari, che era stata l'ultima avversaria della regular season in Serie C. In attesa dei rinforzi, il tecnico dovrebbe nuovamente optare per il modulo Baldini, ovvero il 4-2-3-1. Non saranno a disposizione di Corini, Accardi, Sala e Devetac, dunque in difesa con Buttaron. Delcearu e Marconi dovrebbe partire dal primo minuto Crivello, con ferme in avanti con Elia, Floriano e Valente alle spalle di Brunori. Al San Nicola di Bari, calcio d'inizio questa sera alle 20.45.